Il decreto su ricostruzione Superbonus 110% è stato ufficialmente convertito in legge con la recente approvazione in Senato, segnando così un passo importante per il sostegno alla ricostruzione degli immobili danneggiati dalle scosse sismiche del centro Italia. Ad annunciarlo è stato Guido Castelli, commissario alla riparazione e ricostruzione Sisma 2016. La normativa permette l'accumulazione del contributo Sisma con il Superbonus senza interruzioni fino al 31 dicembre 2025, una continuità essenziale per gli interventi di ricostruzione post-sisma che potranno beneficiare dello sconto in fattura e della cessione del credito d'imposta fino alla stessa data. Il commissario Castelli ha anche annunciato protocolli d'intesa con gli istituti di credito che hanno reso disponibile un plafond di un miliardo di euro e l'ottimizzazione delle linee guida in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate. Va sempre premiato anche il lavoro del commissario che si è anche adoperato per avere delle convenzioni con alcune banche per avere la copertura dei crediti fiscali che si andranno a maturare con la ricostruzione, il 110 abbinato alla ricostruzione del 2016. Io nei tavoli ho sempre detto che l'unico punto di criticità è che il 2025 non basterà. Io dico sempre che queste due cose dovevano viaggiare a braccetto perché la ricostruzione andrà avanti sicuramente fino al 2027-28 e non può essere che nel 2025 abbiamo l'interruzione della possibilità dell'abbinamento con il 110. La questione delle tempistiche è un argomento su cui intervenuto anche il presidente dell'Apiteramo, Alfonso Marcozzi. Voglio ricordare che il 2023 è stato un anno disastrato per tutto quello che tutti conosciamo, per la scadenza imminente del super bonus, la chiusura dei cantieri. Quindi ci sono stati dei tempi assegnati all'interno delle norme tecniche per il sisma di circa di oltre un anno ma che non sono più sufficienti perché se andiamo a analizzare la tempistica reale siamo ben oltre l'anno che viene concesso rispetto al tipo di lavorazione del contributo sisma. Qui sono tutti aspetti che andrebbero analizzati. E io quello che dico sempre, noi dobbiamo avere della programmazione, la programmazione è temporale perché non si possono avere tempi ben determinati perché si fa solo confusione. Io voglio ricordare che noi ogni anno, a partire dal sisma Belice, quindi stiamo parlando degli anni Sessanta, ad oggi, noi paghiamo circa 6 miliardi all'anno per ricostruire il nostro territorio ma allora non riusciamo a fare una programmazione più ampia, in materia che c'è tempo, si può lavorare meglio, i risultati sono in un territorio che tutti conosciamo che è altamente vulnerabile ai fini sismici.